Oggi ti presento una soluzione molto efficace per pescare meglio e adesso ti spiego anche il perché. Come posizionare i piombi, dove posizionarli e con quali sistemi di zavorra posizionarli fa la differenza. Adesso ti spiego nel dettaglio questo nuovo sistema di zavorra che io ritengo particolarmente efficace. E' indiscutibile che per effettuare bene le tecniche di pesca, specialmente nel basso fondale, occorre un perfetto equilibrio della zavorra. Per me l'equilibrio di zavorra e il suo posizionamento è il fondamentale di tutte le tecniche. Mi piace molto che durante l'utilizzo, anche con tanti chili di zavorra, non si muove in nessuna direzione, sia nella capovolta che in tutti i tipi di azioni. Può ospitare fino a 12 chili di piombi distribuiti in varie zone del corpo, per un perfetto equilibrio di zavorra. Infatti, se non si riesce ad appostarsi sul fondale in modo efficace e silenzioso, la maggior parte delle prede non si faranno nemmeno vedere. Quando l'azione è controllata e fluida, se c'è un pesce si avvicina subito invece di fuggire. All'inizio potrebbe sembrare complicato indossarlo, ma basta capire il sistema per trovarlo comodo e rapido. Questo che vediamo è il primo metodo per indossarlo, andando ad agganciare le tre cinture. Una volta posizionato è facile da regolare, non serve che sia stretto, anzi va mantenuto aderente ma comodo, per facilitare ogni movimento. Questo invece è il secondo metodo per indossarlo, con le due cinture sulle spalle già regolate. Sganciarlo è anche più rapido che indossarlo, e serve soprattutto per la comodità, nel caso si indossa e si toglie più volte durante la battuta di pesca. Comunque è efficace, anche se in pochi metri d'acqua si fa prima a risalire che a sganciare qualunque sistema. Un altro aspetto che non è tecnico, ma mi piace molto, è che si asciuga rapidamente dopo il suo utilizzo, grazie al fatto che non ha materiali che assorbono acqua. Inoltre con il tempo non tende ad allentarsi o a rompersi facilmente. Per il caricamento del fucile, la cintura sul torace non dà nessun fastidio, anzi, aiuta a capire i punti ideali, ovvero il primo appoggio è subito sotto di essa, e il successivo appoggio è subito sopra. La piastra posteriore direziona le cinture e al tempo stesso ammortizza il carico di zavorra, senza penalizzare la respirazione. E' certamente un prodotto tecnico che va utilizzato in abbinamento alla tradizionale cintura di zavorra. Va benissimo anche con pochi piombi, infatti lo utilizzo sia nel basso che nel medio fondale. Ciò che mi piace di più è la possibilità di variare rapidamente la zavorra, ovvero aggiungere o togliere i piombi con estrema facilità. Anche in acqua, e senza togliere lo schienale, cosa davvero difficile negli altri sistemi. In acqua bassa usando molta zavorra non serve una respirazione lenta e profonda, altrimenti entra acqua nello snorkel. In acqua bassa infatti le immersioni sono più convenienti, brevi e ripetute, per cui anche la respirazione deve essere meno ampia. A parità di tempo, più immersioni brevi equivalgono a più azioni di pesca, per cui ha più possibilità di cattura. Come sempre tutto è soggettivo, ma a me questo sistema di zavorra piace molto. Infatti potete vedere che lo indosso in quasi tutti i miei video. Se avete domande scrivetele nei commenti qui sotto al video, risponderò a tutti il prima possibile. Grazie per l'attenzione, ci vediamo presto, ciao. Per saperne di più, segui Marco Bardi sui social network.